Allora, dividiamoci due fatti, dai, vediamo, la parte S e la parte O, sentiamo, vabbè, la parte S e la parte O e la parte qua davanti, la parte O e la parte da macchina chiesa! Alcina, tutti ieri! per chi è successo? se si sente bene non è la mia cosa non è la mia cosa come dice che sei un punto di senzio 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10! e che svolta la la prossima è quella che sei sa che la prima volta è la mia stessa è una cosa che si mi piace è una cosa che si è un'occhiata è un'occhiata è una cosa che si è un'occhiata è una cosa che si è un'occhiata GITARRISTA!